Come sapete nel 2015 abbiamo costituito questa nuova Unione dei Comuni Balmero e Le Montarosio ma la Regione Riguria non ne fa menzione nella sua regge regionale. La legge nazionale consente non solo l'Unione dei Comuni ma consente anche che queste Unioni dei Comuni possano essere a cavallo fra province. Di questa normativa la Regione Riguria non ne ha mai fatto menzione e io ho chiesto alla Regione Riguria, in particolar modo al capogruppo Vaccarezza, di occuparsi di questa pratica soprattutto tenendo conto dei problemi che abbiamo su protezione civile, servizi sociali, polizia municipale e anche sui rifiuti. Questo parrebbe che verrà fatto e naturalmente noi ne siamo molto orgogliosi e ne diamo atto. Questa mattina qua ad Andorra noi presentiamo quattro proposte di legge. Sono quattro proposte di legge emendative, emendano quattro leggi regionali che si occupano una di rifiuti, una di servizi sociali, una di protezione civile e una di polizia. All'interno di questi emendamenti noi abbiamo inserito le unioni dei comuni e soprattutto abbiamo inserito le unioni di comuni che hanno nei loro comuni aderenti comuni che ricadono in province diverse. Già che c'eravamo abbiamo tolto anche le comunità montane perché la Regione Riguria non si era resa conto che le comunità montane non ci sono più sul nostro territorio. Credo che sia un'attenzione al territorio. La richiesta arriva da questa Unione dei Comuni che è particolare nella mappa dell'Unione dei Comuni Liguri e credo che questa amministrazione regionale che ha la particolarità di avere 13 ex-indaci nelle sue fila in questi anni avrà particolare attenzione a quelle che sono le esigenze dell'ente più importante e in questo momento più debole da difendere che è il Comune. Quello che deve dare risposta è che troppo spesso è il primo a cui a livello nazionale si caricano i tagli e che poi non riesce più a dare servizio ai cittadini. Siamo qui ad Andorra in questa occasione molto piacevole in considerazione del fatto che la Regione in modo molto efficiente si è mossa nell'attuare una di quelle norme di dettaglio di secondo livello, norme regolamentari che permetteranno alla nostra Unione Valmerola-Montarosio di poter realizzare le funzioni secondo il dettato normativo nazionale. L'Unione dei Comuni Valmerola-Montarosio è stato un atto amministrativo che è nato praticamente un anno fa dalla sinergia tra realtà amministrative con termini che hanno delle cose in comune e che hanno dei progetti in comune. A un anno di distanza si può fare già un primo bilancio e questo bilancio è nettamente positivo perché abbiamo superato tanti confini, tante barriere a cominciare da quella del Campanile e si sta lavorando davvero bene insieme. Adesso una tappa ulteriore è quella della necessaria modifica adeguamento normativo regionale che ci consenta di lavorare fino in fondo per la costruzione associata delle funzioni e per progettare un futuro per le nostre realtà territoriali per i nostri comuni, ovviamente parlo da sindaco del Comune di Cesio affinché possano questi comuni costruire qualcosa insieme.